Ormai possiamo dirlo con estrema sicurezza, Mohamed Salah è diventato un nuovo giocatore del Liverpool. Alla Roma per la sua cessione andranno 40-45 milioni a seconda dei bonus che verranno inseriti nell'affare finale. Allora posso dirvi innanzitutto che sono veramente molto dispiaciuto per questa cessione. Sono dispiaciuto perché mi ero in qualche modo affezionato a questo giocatore, sempre solidente in mezzo al campo, sempre molto veloce, dinamico, che si vedeva, che si divertiva nel giocare a calcio. Giocatore molto bravo e secondo me imprescindibile per la Roma attuale. Bravo nel dribbling, bravo nel segnare, bravo nel far segnare, visto che la metà dei gol che ha fatto Diego nella scorsa stagione li ha fatti praticamente grazie a suoi assist, senza contare gli altri gol che hanno fatto gli altri compagni della Roma. Giocatore molto forte per la Roma attuale. Purtroppo, da quello che si è capito, è stato lo stesso giocatore a voler andare a vestire la maglia del Liverpool. E quando un giocatore come Salah decide che non vuole stare più in una squadra, l'abbiamo visto anche nella situazione con la Fiorentina, non c'è tripa per gatti. Con la Fiorentina aveva deciso di non rimanere più con i Viola e la stessa cosa è capitata a noi. Dopo due anni comunque veramente fantastici, tra tanti gol e tanti assist, ha deciso di tornare in Inghilterra, dopo l'esperienza un po' negativa con il Cezi. Questa volta andrà con il Liverpool. Come vi ho detto, mi dispiace perché è un giocatore fortissimo e che ci mancherà veramente per la prossima stagione. L'unica cosa positiva che posso dire è che almeno ci abbiamo preso quello che volevamo e non siamo dovuti andare al ribasso perché dovevamo cederlo apposta per qualche motivo. L'unica cosa positiva è che la Roma ha voluto 45 milioni e 45 milioni avrà per poterli rinvestire sul mercato per prendere non solo un degno sostituto di Salah, ma un sostituto del sostituto, se così si può dire. Perché dico questo? Allora, con la partenza di Salah gli esterni offensivi giallorossi sono diventati due. Sono rimasti praticamente solo Perotti e Del Sharawi. Di conseguenza, visto che il modulo di Di Francesco è un 4-3-3, serviranno necessariamente almeno due sostituti dei titolari. E considerando il prezzo con la quale abbiamo venduto Salah e considerando comunque i milioni che abbiamo da poter investire nel mercato, che potremo utilizzare da luglio in poi, e mi riferisco ovviamente a quelli ottenuti per la Champions, spero che potremo raggiungere due obiettivi importanti davanti. Allora, ci sono fatti tanti nomi, Suso, Berardi, Bernardeschi, Gomez, sono stati fatti veramente tanti nomi, ma io spero che tra questi almeno due arrivino a Roma, visto che il loro cartellino iniziale non è di 45 milioni e se la Roma riesce a gestire bene gli affari potrebbe portare per esempio un Gomez e un Suso a casa, spendendoci su 50 milioni magari, e ne hai soltanto aggiunti 5 in più rispetto a Salah e hai due ottime alternative davanti. Voglio cercare diciamo di vedere il lato positivo di quest'affare perché se consideriamo l'aspetto tecnico del giocatore, purtroppo c'è un prezzo veramente tanto, tanto, tanto. Mi dispiace ma voglio chiedere subito una cosa, la Roma non lo ha ceduto perché gli servono i soldi, perché sennò falliviamo eccetera eccetera, la Roma lo ha ceduto perché il giocatore se ne voleva andare. Punto e basta. L'unica cosa che la Roma poteva fare era cercare prima di tutto di non darlo in Italia, obiettivo riuscito. Seconda cosa è di darlo a una squadra estera prendendoci quanti più milioni possibili e facendo noi stessi il prezzo della sua cessione, anche questo obiettivo riuscito. Quindi sono comunque soddisfatto del lavoro che ha fatto il nostro DS e voglio dare un messaggio a tutti quelli che adesso parlano di distruzione della rosa, che adesso falliremo, arriveremo settimi, ottavi eccetera eccetera. La Roma sta facendo già un buon lavoro per sistemare la propria rosa. Monci sa il fatto suo e saprà sicuramente sostituire degnamente Salah. I giocatori vanno e vengono ma non cominciamo a criticare tutta la società e tutto l'allenatore eccetera eccetera soltanto per questa cessione molto dolorosa. È una cessione che fa molto male a me ma comunque fa male alla squadra ma sono sicuro che Monci lavorerà alla grande per risistemare la situazione. Sono molto fiducioso sul suo lavoro. In ultimo voglio fare un in bocca al lupo al nostro Mohamed Salah che per quanto mi è dispiaciuto che se ne sia voluto andare via si è sempre comportato in maniera professionale ed esemplare. Mai una parola fuori posto, si è sempre impegnato al massimo, anche con la Coppa d'Africa è subito tornato ed è subito tornato con grande grinta voglia di fare, non come avevano fatto Gervini e Dumbia praticamente due stagioni fa. Sempre ineccepibile, sempre bravo sia nel comportamento sia in campo, quindi posso fare soltanto dei grandi applausi per quello che ha fatto la nostra Maglia e gli auguro tutto il meglio possibile per la sua avventura nuova in Maglia Rez, sperando ovviamente che qualora lo incontrassimo non ci segni il più classico dei gol dell'ex. Speriamo solamente questo. Fatemi sapere nei commenti voi cosa se pensate della cessione ufficiale di Mohamed Salah al Liverpool. Un saluto e ci vediamo più tardi per un altro video speciale in cui vi riporto la rosa spagnola più forte dagli anni 2000 ai giorni d'oggi, sperando che anche questo video vi possa interessare. Un saluto e sempre Forza Roma! Ciao ragazzi! 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 Grazie per la visione!